non abbiamo, pace, prego, ci vorrebbero ore e ore. Buonasera, grazie, andrò per titoli, i ragionamenti sono stati fatti, intanto il ringraziamento per aver invitato la mia organizzazione e il sindaco, l'ex sindaco dei magistris a intervenire, non è potuto intervenire perché in questo momento a Madrid ha un incontro proprio sulla pace che impegna le forze di sinistra che si riconoscono nella nostra area. Io penso che il lavoro che sta facendo Sinistra Europea è un lavoro assolutamente imprescindibile, anche guardando lo scenario italiano. Noi non dobbiamo dimenticarci che l'Italia è forse il paese che ha interpretato in maniera più estrema talune direttive europee, andando a dragare fino in fondo tutto il dragabile e trasformando le privatizzazioni in una liberalizzazione che riguarda anche gli asset fondamentali dello Stato, ultimamente come le telecomunicazioni, come tutti gli spazi in cui un minimo di protezione sociale avrebbe dovuto consentire, come è stato fatto in altri Stati europei, un minimo di difesa del bene comune e collettivo che sono costituiti dagli assetti fondamentali che reggono in piedi una nazione. Lo stesso decreto sulla concorrenza firma Draghi è un decreto che in Italia è stato declinato soprattutto come sottrazione ai comuni, quindi al pubblico, dell'erogazione dei servizi di prossimità, dei servizi fondamentali per i cittadini. Tant'è che oggi un comune che volesse andare a garantire in qualsiasi servizio sociale, dalla scuola ai trasporti all'acqua, dovrebbe giustificare perché non l'ha messa sul mercato e dimostrare conti alla mano che sarebbe stato più conveniente mantenerlo, perché è un'operazione praticamente impossibile. Diciamo che l'Europa che noi abbiamo davanti è l'Europa che ha massacrato la Grecia, l'ha distrutta, le ha succhiato tutte le energie ed è quell'Europa liberista contro la quale penso tutti quanti abbiamo maturato una convinzione profonda di inadeguatezza a rappresentare proprio il modello stesso di civiltà europea, il modello stesso di cultura europea. Per questo motivo sono stato molto sollecitato dall'intervento di Alfonso Gianni per quanto riguarda la questione della costituzione di un soggetto politico in grado di interpretare un problema fondamentale, la distanza enorme che c'è tra la sinistra in Italia e la sinistra in Europa, nel senso che non esiste in Italia un soggetto capace, in maniera non dico egemonica, ma quantomeno identitaria, a rappresentare non soltanto dei valori ma un programma politico. È un problema anche di sgregamento o meglio di sgregazione di tutte le presenze organizzate a livello sociale di resistenza o comunque alternative perché è la conseguenza diretta che abbiamo avuto non soltanto della deindustrializzazione e dell'evoluzione poi che è stata dell'economia, ma anche della capacità delle destre di appropriarsi del disagio con risposte che non sono soltanto populiste ma sono estremamente congeniali e funzionali a quello che è invece il complesso delle politiche liberiste. In Italia non c'è nessun soggetto che possa attualmente da solo occupare questo spazio. e mi ha fatto molto riflettere una cosa detta dalla compagna di cui non ricordo il nome, quando ha accenato al Papa dicendo che è una posizione morale e non politica. Il nostro problema è proprio questo, trasformare la morale in politica, tornare a pensare un partito politico fondato non soltanto su un programma operativo ma su un quadro etico condiviso, su una morale che si fa prassi e questo necessariamente deve essere ricercato all'interno di un campo aperto perché noi con le nostre, ognuno con le nostre singole tradizioni non abbiamo la possibilità di rappresentare la vivacità, la ricchezza, l'insieme della società e della cultura italiana. Il problema è individuare un soggetto e chiudo subito. Ho capito che devo chiudere. Purtroppo il pensiero era questo, capire come fare a lasciare, non indietro, ma a mantenere magari ognuno la propria identità, però all'interno di un qualche cosa che sopravviva alle elezioni, sopravviva a tutte le scadenze elettorali, perché le scadenze elettorali sono un momento di coagulo, di convergenza, ma devono anche essere un momento di costruzione di un'identità. qualcuno potrebbe pensare a Grammci, al concetto di hegemonia, lo diamo per scontato e lo lasciamo così. Io sono molto convinto del fatto che se noi riusciamo a parlarci chiaramente sulla mancanza, cioè sull'assenza totale di protagonismi eccessivi che possano fare ombra o di puntare su personaggi anziché su sintesi di organizzazione e sintesi di esperienze di vita e di lotta, noi saremo in grado, anche se forse prematuramente, di presentare già un, di battere un colpo nel 23, tenendo presente che lo scenario nostro poi che ci ha comune è comunque il 24, un rafforzamento della presenza della sinistra europea che a questo punto deve essere fecondata non soltanto dalla sinistra italiana, ma tutto da tutto quel mondo etico, morale, oggi inespresso, che non ha matrice di sinistra, ma che sicuramente condivide i valori che noi cerchiamo di portare avanti. Grazie, scusatemi. Grazie. Grazie. Grazie.